Sa che ridere ho? Siete pronti? Sì Prontissimo E senza ci appicciacare eh? No 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 Possiamo dire che è la prima volta che fate un faccia a faccia? Sicuramente sì Sì perché no E allora salutatevi Ciao Gigi Ciao Pinotto Ma insomma è vero che voi due vi odiavate? No odiare è una parola troppo grossa E che chi ci avevamo intorno che parlava male Cipino ha detto questo di te Allora io rispondevo anche io male Ma vi stavate almeno un po' sulle scatole? No, non è vero, mai Un poco poco Chi per primo ha parlato male dell'altro? Penso lui Lui Che cosa ha detto? Che era un po' grassottello, questo lo dice sempre Mi sembra che disse Io non ho capito la PMG come fa a credere in un cantante come Gigi D'Alessio Queste le vitte E' vero che quando c'era uno sul palco l'altro non ci andava? Sicuramente sì Si è creato sempre un alone intorno a sta cosa E poi cosa è cambiato tra voi? Io ho chiamato Gigi e l'ho invitato a Napoli a cantare con me Mi chiamo e disse scusa ma prima ci appiccicaccio, volemmo conoscere Quest'estate Gigi ha cantato sul palco di Pino? Sì E quanta fischia che a Gigi ha fatto E tu come hai reagito? Ci sono rimasto male ovviamente, è inutile nascondere Ho cercato di non dare importanza e non do importanza alla cosa Ma tu a casa hai CD dell'altro? LP, e uno me l'ha regalato proprio lui Mio figlio in macchina l'ascolta Gigi Quindi anche se vorrei sfuggire a questa cosa non posso farlo Una cosa che ti piace dell'altro musicalmente? C'è un momento che riesci a capire la giusta cosa Da un ottimo sarto per se stesso Una cosa che non ti piace dell'altro musicalmente? E' più a Pino che non piacerà qualcosa di me Forse è un po' troppo legato alla canzone neomelodica Una cosa che ti piace dell'altro come persona? Tutto sommato è un bambino E' una persona che ha un grande cuore Una cosa che non ti piace dell'altro come persona? Diciamo che è abbastanza pigro Il fatto che mi chiama quando mangia e mi dice quello che si mangia E io sto a dieta sempre Chi di voi due è più intonato? Gigi, digli che sei tu Lui Bravo a scrivere i testi? Io sono forse più bravo a scrivere il napoletano Tu, ah, lo rispetti E chi di voi due è più ricco? Ah, lui, indubbiamente Lui Mi mi hanno rubato sempre In cosa sei imbattibile? In cucina sicuramente Io? Nella pigrizia non mi muovo mai Chi è il tuo mito musicale? Ma Maes Davis Claudio Baglioni Non ti ingazzare La più bella canzone in assoluto su Napoli? Per me è essere nata napoletana Napoli Quanto ami Napoli? Io amo molto la mia città Più della mia vita Definiscila con un aggettivo Intensa Mamma La cosa che ti piace di più di Napoli? Il cuore Il sentimento La cosa che meno ti piace di Napoli? L'invidia Come gli altri la dipingono Il luogo comune più falso su Napoli? Pizza, mandolini Cosa possono fare i napoletani per liberarsi dalla camorra? Mandare i propri figli a scuola E cercare di non lasciarli per strada Più che i napoletani I giovani Devono capire che è una strada Che senza uscita Che senza uscita